Ultime battute per i candidati della regione Calabria. Ieri Mario Oliverio ha incontrato cittadini ed elettori sulla costa tirrenica Cosentina, facendo tappa in diverse località. Prima sosta a Cetraro, a sostegno del sindaco Giuseppe Aieta. Noi da Cetraro gli tributiamo un saluto caloroso, affettuoso e ovviamente in questo contesto anche il mio impegno diretto nella lista del PD sta a significare proprio un riconoscimento verso Mario Oliverio. Stiamo visitando in lungo e largo la provincia di Cosenza, lo facciamo non guardando al nostro destino personale ma a quello della Calabria, a quello dei giovani, dei soccupati e ovviamente a questo punto di riferimento che sicuramente sarà Mario Oliverio. Si prospetta una chiusura in grande stile per Mario Oliverio che venerdì pomeriggio a Cosenza terrà il comizio conclusivo della campagna elettorale alla presenza del premier Matteo Renzi. Venerdì chiuderemo la campagna elettorale con la presenza di Matteo Renzi che si è impegnato a ritornare anche giorno 28 per aprire un confronto positivo con il nuovo Presidente della Regione.